Benvenuti sul mio canale. Se vi appassiona tutto ciò che sembra misterioso e insolito ma non volete farvi prendere per il naso, qui troverete parecchio materiale che fa per voi. La mia serie strane storie, il dietro alle quinte del mio lavoro, i miei interventi televisivi, gli incontri dal vivo e molto altro. Ogni settimana troverete video nuovi di Zecca e per questo vi invito a iscrivervi subito per essere i primi a sapere quando saranno pubblicati. Ah, se vi va, lasciatemi qui sotto un saluto. Ci vediamo presto. Grazie a tutti.